Una nuova vittima da Covid-19 ad Ariano Irpino è la numero 16. Si tratta di un 79enne ricoverato dal 15 marzo scorso nell'unità operativa di pneumologia del Moscati di Avellino. La salma del 79enne, dopo la benedizione verrà cremata e l'urna contenenti le ceneri, giungerà nella giornata di domani nel cimitero arianese. Una vera e propria strage di anziani sul Tricolle, il comune che ha pagato il prezzo più alto di questa emergenza, dramma nel dramma in via parzanese dove l'ex primario del frangipane Angelo Lanzafame ha chiesto l'intervento dell'unità mobile a domicilio. Suo figlio disabile necessita di assistenza e sua moglie positiva è ricoverata al frangipane. Da giorni stanno attendendo il tampone padre e figlio. Al frangipane intanto il quadro complessivo dei ricoveri è di due pazienti positivi in terapia intensiva, 47 in medicina Covid di cui 45 positivi, uno negativo e uno sospetto. Nella giornata di ieri c'è stato anche il trasferimento di un paziente dalla terapia intensiva alla medicina. TAC fuori uso da due giorni con inevitabili disagi. Per tutte le emergenze e no covid è entrato in soccorso al frangipane sin da subito e soprattutto in queste ultime settimane l'ospedale Criscuoli di San D'Angelo dei Lombardi. Disposta intanto per questa sera una nuova sanificazione delle strade. L'attività verrà svolta da un operatore incaricato secondo il protocollo e con l'utilizzo di prodotti conformi alle disposizioni stabilite dall'ASLA. Da parte del comune di Ariano Irpino un sentito ringraziamento viene rivolto al presidente di Confindustria di Avelino Giuseppe Bruno per aver messo a disposizione della comunità arianese i mezzi necessari alla sanificazione. A coordinare le operazioni ci saranno come sempre i volontari della protezione civile IOS.